Ok, allora, io sono venuto già qui e ho fatto un talk su questo orologio binario nel 2015 ed ero arrivato poco più avanti di quella versione là. Quello che vedete a sinistra è il primo che ho costruito, l'ho costruito quando andavo alle superiori, un semplice progetto così nato dalla voglia di fare qualcosa con un pic, ci avevano insegnato come programmarli, quindi ho pensato cosa posso costruire con un integrato, facciamo un piccolo orologio binario ma invece di farlo da tavolo facciamolo da polso, quindi questo qui era semplicissimo, i suoi led, questo era programmato in assembly con due pulsanti per accendere i led, invece quello che vedete a destra è dopo 10.000 versioni, la versione è quasi commerciale, dopo vi spiegherò anche i vari passi che ho fatto nel cercare di industrializzare un po' questo prodotto e adesso sono diciamo alla prima fase di beta. Allora beh, immagino che qua tutti sappiano come leggere un orologio binario, ma comunque se qualcuno non lo sapesse, semplicemente ho dei led che possono essere spenti e accesi, lo spento è uno zero, il led acceso è un uno, quindi sopra posso leggere le ore, sotto i minuti. Il posizionamento è big endian, quindi a destra ho quello meno significativo, i numeri li ho anche scritti nell'orologio, quindi partendo da destra ho uno, due, quattro, otto. Se ad esempio devo segnare le due, avrò soltanto il led 2 acceso. Se l'orologio deve segnare le tre, avrò il 2 e l'1, quindi sommando quelli accesi posso tenere l'ora, quindi 2 più 1, 3. Stesso discorso per i minuti. Quindi è un po' lento da leggere all'inizio, ma dopo si impara a fare molto velocemente delle associazioni e diventa molto rapido. Come vi dicevo prima, questo è quello da cui sono partito ormai sei anni fa, è un progetto a cui lavoro a tempo perso, quindi per quello ci sono passati sei anni. Ok, questo era basato su un microcontrollore della microchip, un PIC, quello più usato da tutti, cos'è il 18F, 18F, 16F, 80, no, questo qua quello dopo, 628, 628, sì la versione è moderna, è lecito che non me lo ricordi. Va bene, cosa c'era in più? C'era un quarto esterno, quello solito da 4 MHz e due pulsanti. Vabbè, questo aveva delle varie problematiche, nel senso il conteggio dei secondi era fatto utilizzando il quarto esterno, che non è sicuramente uno di quelli molto precisi, e quindi perdevo vari secondi al giorno. In più avevo degli altri problemi, consumava tanto, quindi questo era alimentato da due mini stilo, però comunque anche quando i led erano spenti consumava un parecchio. C'era la possibilità di attivare una modalità sleep, quindi l'orologio consumava meno, ma comunque consumava un sacco. Ho fatto una seconda versione un po' più piccola, perché quell'altro era veramente una patacca, sempre usando lo stesso integrato, versione quella più piccola, con il montaggio SMD, che è montato sul retro di questa scheda, e il resto non è cambiato niente, avevo sempre ore, minuti e due pulsanti. Dopo questo, fin qui, mi sono sempre fatto tutto, facevo io le schede, poi mi sono stufato di fare le schede, e ho provato i vari siti internet per farsi fare le schede, quindi questa scheda come la sono fatta fare, montavo io i componenti col saldatore, va bene, montavo i vari componenti col saldatore, la cassa era una cassa in PVC che fresavo io, e c'era montato un tastino, se vedete questo qui, era un tastino laterale che si incastrava sempre, quindi questo è uno dei problemi di questo orologio, è molto bello, nel senso che nel mercato esistono orologi da binari, ma nessuno li fa con un'elettronica così tanto a vista, nel senso che generalmente sono un orologio normale con dentro dei led, invece io ho sempre cercato di rendere la scheda sempre più visibile possibile, di non nascondere mai nessuna parte dell'elettronica, questo era molto bello, si potevano toccare i componenti, ma poi se uno toccava con un dito questo quarzo, che era il quarto d'orologeria per tenere il tempo, si fermava il conteggio, quindi perdeva secondi, sbattendolo su un tavolo partivano i componenti, quindi aveva i suoi problemi. Come evitare questi problemi? Allora, per cercare di non far saltare i componenti ho provato tutte le vernici possibili, ho comprato non so quante bombolette di vernice, primer, di tutto, ma fare attaccare una vernice alla copertura della PCB è molto difficile, perché è una vernice fatta a posto per far scivolare lo stagno, e anche le vernici che gli scedano su tendono a crepare. La soluzione che ho trovato è fare una collata di resine possibica, quindi anche qua mi sono comprato le resine, ho fatto un po' di esperimenti, all'inizio di questi qui ne ho fatti una ventina, però avevano anche questi i loro problemi, e questo era il punto in cui ero arrivato nel 2015. La resine possibica è molto bella, molto lucida, mi protegge i componenti, non ho più problemi che se tocco una parte dell'orologio non funziona più il quarzo, però si grafia molto facilmente, e poi ho sempre avuto dei problemi di un problema che si chiama carbonatazione, cioè la resina era lucida appena fatta, però dopo un mese iniziava a diventare opaca, e ho provato altri tipi di resini ma non sono riuscito a risolvere questo problema. Quindi mio malgrado alla fine ho dovuto metterci un vetro. Era una cosa che all'inizio non volevo appunto per non cercare di non incapsulare la scheda e nasconderla in qualche maniera con una cassa, ma è l'unica soluzione per costruire una cosa resistente. Allora qui ho aggiunto un po' di feature rispetto a questa versione qui, anche questo aveva un suo tasto, e anche il tasto aveva problemi sempre che era facile che si incastrasse, in più sarebbe stato interessante farlo resistente all'acqua, quindi ho deciso di non metterci più tasti. Infatti queste due piazzolle rotonde che vedete sono proprio due tasti touch. Qui ho cambiato marca dell'integrato, è un Texas Instrument. Questo qua è molto interessante perché è l'integrato sul mercato che mi dà la possibilità di avere tasti capacitivi in modalità slip a più basso consumo possibile. Quindi anche in questa configurazione qui, con i tasti touch, che vengono scansionati dieci volte al secondo, la durata della batteria è più di due anni, che comunque per un tasto touch non è niente male. Poi ho aggiunto una cassa di alluminio, la cassa l'ho sempre fatta in PVC, però per fare una cosa un po' più commerciale, ho fatto una prova a fare casse di alluminio. All'inizio le facevo io, dopo vi farò vedere delle immagini su come le lavoravo, ma queste qui adesso me le faccio fare. E qui è stata anche l'avventura dell'industrializzazione. Ho montato un vetro zaffiro, adesso non so, anche poi è molto interessante, non so se vi siete mai visti la differenza tra un vetro normale e quando parlano di vetro zaffiro. Interessante perché il vetro zaffiro non è vero vetro, è ossido di alluminio. È quello che, diciamo, montano sugli orologi, quelli di alta gamma, perché sulla durezza MOS, se il vetro è 6, su una scala da 1 a 10, dove 10 è il diamante, il vetro zaffiro è 9, quindi è molto più difficile da gaffiare, ma davvero difficile. Ho fatto un po' di prove a casa e soltanto con le punte da trappone in vidia si riesce a tracciare. Ho provato con cacciaviti, forbici, altre cose, proprio non si riesce a segnare. E vabbè, allora questo resiste all'acqua, la batteria è semplice da sostituire, ci sono 4 viti sul fondo e ho volutamente lasciato i pin di programmazione esposti. Quindi rimuovendo il coperchio sul retro e rimuovendo la batteria, uno può riprogrammarlo. E se il software non l'ho ancora caricato, perché è scritto un po' da schifo, ma quando mai avrò il tempo di scriverlo decentemente, lo caricherò. Allora, l'inizio del progetto, questo qui è il progetto, diciamo, lo schema elettrico dell'orologio, come vedete è molto semplice, non ha niente di speciale. È stato un po' difficile progettare la forma e la disposizione di tasti capacitivi, ma il resto ogni led è multiplexato, minuti e ore, sono collegati direttamente ai piedini dell'integrato, c'è una resistenza in comune. Niente, c'è il quarto d'orologio LDA molto preciso esterno con due condensatori ad alta precisione e niente di più. Qui questo è, diciamo, il PCB come progettato, quelli che vedete rossi sono i due tasti capacitivi, e questo azzurro è un ring esterno che sarebbe un terzo tasto capacitivo, perché il problema dei tasti capacitivi è che se io ho un orologio che tiene l'acqua con i tasti capacitivi, ad esempio il Mi Band, che è una cosa del genere, vado sotto la doccia e mi si accende in continuo, perché le gocce d'acqua vengono sentite come un tocco. Allora, per cercare di evitare questo problema, è possibile usare un ring esterno, ho provato a progettare un ring esterno e usarlo come testo tasto capacitivo, quindi se io premo con un dito uno di questi due, non sarà abbastanza sensibile il ring esterno per sentire un tocco, ma se c'è molta acqua sopra il vetro, oppure ci metto un palmo della mano, sentirò anche il terzo tasto e questo posso usarlo per tagliare gli altri due, quindi quando sento una pressione sul ring esterno, disattivo la funzione di accensione. Ok, queste schede me le sono fatte fare dal sito Elecrow, che se avete bisogno di fare PCB, ve lo consiglio vivamente, hanno prezzi molto buoni e io li ho trovati molto professionali, una volta si sono sbagliati a farmi delle schede, appena glielo ho detto, hanno verificato se ne sono accorti, me le hanno mandate gratis il giorno dopo, quindi tutto molto bene. Mi arrivano queste schede a gruppi di 5 e dopo io le saldo. Allora, la mia attrezzatura molto professionale di montaggio consiste in questo forno del Barre Flow De Longhi, lo volevo con il ventilatore, ma mi hanno fregato anche su questo, quindi non è neanche ventilato, comunque ho fatto un po' di prove a varie altezze, così, 7 minuti a 150 gradi, cotte perfette. Tendo sempre di metterle al centro. Poi sempre nella mia grandissima professionalità uso una bellissima carta di Laming Card dei Pokémon per stendere la pasta saldante, quindi non so se conoscete il processo per saldare le schede, ma diciamo che queste schede qui, sopra la scheda ci metto questo stencil che ha dei forellini in corrispondenza delle piazzole, dopo stendo, di solito ho delle siringhe di pasta saldante che è una pasta che ha un flussante delle sfere di stagno, viene disposta qua, con questa carta la tiro come se fosse una serigrafia, tolgo lo stencil e mi ritrovo una scheda dove nelle piazzole c'è questa pasta di stagno. Poi monto i componenti uno a uno con la pinzetta e metto in forno. La cassa è stata progettata in Fusion, che è un altro programma che consiglio, anche qui non c'è niente di speciale, se non che, ho fatto molta fatica a capire come progettare una cassa di orologio, nel senso le tolleranze, il vetro devo metterlo dentro l'incastro, quanta tolleranza devo metterne l'incastro, chi mi fa la guarnizione, quanto deve essere spesa la guarnizione, sono tutte informazioni che non si trovano. Io non sono riuscito a trovare, ho cercato in tutti i forum possibili. Alla fine però sono riuscito a rivolgermi a una ditta in Svizzera, che mi hanno fatto loro queste guarnizioni e loro sono riusciti a darmi anche le tolleranze che erano necessarie. Quindi insomma io ho potuto scrivere queste tolleranze ai miei fornitori delle casse. Questo è un render che ho fatto, che magari quando farò un sito, semmai metterò questi render. Allora le casse all'inizio le facevo io, è interessante perché se si vuole far tenere l'acqua a una cassa mettendo un metro incastro non si può fresare, perché la fresatura della cava dove andrà a incastro il vetro avrà i solchi della fresa. Quindi questo va tornito, oppure ho usato un allesatore. Un allesatore di quel diametro non ce l'avevo, quindi io partendo da un pieno, prima le tornisco, poi ho fatto questa piccola dima dove metto la cassa con scavato la rientranza per il vetro, la fisso e poi freso il resto. In maniera tale appunto, perché tornendo all'interno tutti i solchi saranno elicoidali e non verticali e l'acqua non passa in questa maniera. E questa è sempre la cassa con la guarnizione. La cassa ha due guarnizioni, è una guarnizione sopra dove va incastro il vetro e una guarnizione dietro dove va avvitato con quattro viti il fondo. Ecco, questi sono i componenti della cassa, appunto questo è il vetro, questa qua è la guarnizione che mi sono fatto fare in Svizzera, questa è la cassa in alluminio fatta in Cina, ho comprato gli OR, e poi questo qui è un fondo in acciaio inox 316L che mi faccio tagliare al laser. Ok, nell'industrializzazione, cioè quando uno, ok, ne faccio uno, li freso io, faccio la cassa, ci metto due giornate a farne uno, ok, vedo che tutto funziona, mi piacerebbe farne qualcuno in più e più velocemente. Il modo più facile è andare in Cina, nel senso che ho provato a chiedere qualche preventivo a aziende vicino a me, ma per pochi pezzi, se si va a chiedere dieci pezzi, chiedono cifre proprio impossibili, quindi o si fanno grandissime produzioni oppure non si riesce. Invece ho visto tanti fornitori in Cina fanno prezzi molto buoni anche per piccolissime quantità. Allora, questo qui è il sito a cui mi sono rivolto, non so se voi conoscete Aliexpress, Aliexpress e Alibaba sono, diciamo, Aliexpress è la versione tipo un ebay in Cina, Alibaba invece mi mette a contatto proprio con i fornitori. Poi ho messo anche questa bellissima foto di, guardate quanto è felice il capo di Alibaba, Jack Mba. Ok, allora come funziona Alibaba? Si va in questo sito e si chiede dei preventivi, generalmente a casaccio, cioè si cercano aziende che fanno tornitura, ne prendo 10 e gli chiedo un preventivo. Ai preventivi generalmente rispondono tutti, bisogna leggerseli, e quelli che danno i prezzi più bassi probabilmente non hanno neanche aperto il vostro progetto, perché io ho avuto dei preventivi per le casse di un dollaro l'uno, che è veramente una cifra impossibile. Quindi sicuramente quelli lì, buh, non so, sono da scartare sicuramente. Ci sono stati altri preventivi folli di prezzi alti, a metà via c'è stato qualcuno a cui dopo ho fatto altre domande. Facendo questo, chiedendo preventivi, poi verificando così i preventivi come andavano, ho conosciuto queste tre persone. Allora, il primo è Mr. John Shee, che è questo tipo che, va bene, mi sono scambiato un po' di mail, poi un giorno stavo mangiando e mi ha fatto una videochiamata, sono rimasto videochiamato con lui due ore, e mi ha raccontato la storia della sua vita, dei suoi figli, comunque è stato interessante perché ha veramente questa faccia, quindi esiste davvero. Questo è quello che si chiamano middleman, cioè nel senso lui non è, non lavora per una fabbrica, lui fa da tramite tra me e la Cina. È una figura che di solito dicono di evitare, perché vuole ovviamente il suo guadagno, però conscio della mia poca conoscenza dell'ambiente, ho detto forse se mi rivolgo a una persona che mi fa da tramite, almeno sa lui con che aziende parlare. infatti è stato un vantaggio perché la prima volta che ho ordinato le casse me le hanno fatte molto male e ancora prima che mi arrivassero a me, sono arrivate a lui, lui le ha reiectate e quindi non ho dovuto pagare niente e me le ha fatte rifare. Se non avessi avuto un middleman là, mi sarebbero arrivate a casa e dopo immagino che sarebbe stato molto più un casino mandagliele indietro e farsene cambiare. Forse non me l'avrebbero neanche fatto, probabilmente. Questo qua è un altro tizio, Mr. Andy Wong, mi scrive ogni due giorni, quello da cui compro i vetri, veramente ogni due giorni mi chiede se ne voglio altri. Ogni due giorni. Va bene. E questa è la mia preferita, Mr. Sunshine Shao, ha una foto che dubito fortemente che sia di una cina che lavora in una fabbrica, è anche un nome molto, non so, dubbio. Sicuramente non è la sua identità, però le cose me le ha mandate secondo le specifiche. Ok, da queste mie piccole esperienze ho imparato dei do not molto fondamentali per l'aribaba. Cioè, non bisogna mai... Se avete bisogno di fare una cosa con una certa specifica particolare e la chiedete a un produttore, è sbagliato. Cioè, se io ho bisogno di fare una cosa in tolleranza a un centesimo, e chiedo al produttore, sai farla al centesimo? Lui mi risponde sì. Ma se gli chiedevo, ma la sai fare al millesimo? Mi risponde sì lo stesso. La fai fare al micron? Sì. Cioè, la sai fare al 0,1 micro? Sì. Qualsiasi cosa che chiedete voi di specifico rispondono sì. Quindi non bisogna chiedere così, ma bisogna chiedere a che tolleranza riuscite a farmelo? Allora, chiedendo così, generalmente sono onesti. Se no, qualsiasi altra richiesta dicono sempre di sì e poi loro, non so, penso che credano di cavarsela in qualche maniera. Comunque è una cosa veramente da tenere in mente. e poi bisogna veramente dare delle specifiche molto strette. Cioè, se io qua vado da un produttore e ho bisogno di farmi un'automobile e in ogni specifico che voglio, il tipo di gomme che voglio, di solito il produttore mi chiede ma che tipo di gomme vuoi? Invece il cinese no. Se gli chiedono la macchina senza specificare il tipo di gomme, lui le mette su un tipo a caso. Qualsiasi specifico che voi non scrivete davvero, loro la fanno a caso. Se la scrivete, la fanno. Se no, veramente, per loro il fatto che voi non gliel'avete detto vuol dire che erano liberi di fare quello che volevano. Questo è un problema anche perché nel mio ordine di vetri mi sono fatto fare un trattamento antiriflesso che era azzurro, gli ho detto fatene altri come i samples e me l'hanno fatto trasparente. Gli ho detto, ma io avevo chiesto di farlo come i samples. Eh sì, però noi non ci ricordavamo cosa avevi fatto nei samples. Ma mica me lo chiedono, e fanno a caso. C'è che ti chiedono io non ho questa informazione e me la puoi dare? No, a caso, vabbè. Questo è veramente interessante da sapere. E altre cose interessanti? Sì, generalmente poi un'altra cosa, se dovete fare cose su Alibaba, è conviene chiedere un preventivo per un numero grande di pezzi, tipo mi fai un preventivo per mille pezzi e dopo gli chiedi, ok, mi riesci a fare un ordine di prova di cinque pezzi? Perché se gli chiedete cinque pezzi storcono tutto il naso subito e quindi la maggior parte non neanche vi risponde. Eh, e un'altra cosa, i dettagli. Ad esempio, ho comprato dei cinturini, gli ho mandato una foto di... Allora loro mi mandano una foto... Non hanno un catalogo, in Cina non si usa cataloghi. Cioè, una ditta che fa cinturini, gli chiedo, avete un catalogo di vostri cinturini? No. Va bene. Mi mandano una foto di una serie di cinturini che ha fatto tipo la tizia a cui ho scritto lì sul tavolo. Gli dico, ok, voglio questo. Me li mandano e non sono quello. Gli mando una foto, gli dico, guardate che non è questo. E lui mi dico, sì, ma guarda che la fibia è la stessa. Gli dico, sì, ma la trama è diversa. E dopo mi risponde, ah, sì, ho controllato molto bene ed effettivamente la trama è diversa. Cioè, loro... Allora, se gli fai vedere due... Se gli dai un pezzo di plastica nera a un pezzo di alluminio nero, è nero. Sono due pezzi neri. Questo perché, appunto, se io parlo col commerciale che parla inglese male, il commerciale parla col cinese in fabbrica che non parla inglese, quindi di quello che dico io si capisce in metà, alla fine tutto un casino. Quindi super specifici. Nelle specifiche io gli metto una foto della trama e gli dico, voglio questa trama, allora lo fanno giusto. Però bisogna saperlo. Allora, di questi orologi qua, la prima, diciamo, pezzi in beta davvero sono questi. quelli che ho portato qui. Quindi io devo ancora aprire un sito, devo ancora fare qualsiasi cosa, aspettavo appunto di averli i primi che sono questi. Quindi se siete interessati, potete avere questi primi pezzi in beta. Ne ho cinque qui, uno per tipo, dopo non so se vi li siete passati, comunque li faccio... sono spariti. Già spariti. Ah, ok. Comunque esistono, li faccio in più versioni, diciamo, la cassa la faccio o nera o color alluminio e le piste le faccio o argentate, che sono diciamo quelle stagnate, oppure me le faccio lasciare scoperte color rame, o che casino farsi fare le piste, una scheda con le piste scoperte, un disastro. Ho potuto ordinarle tre volte prima che capissero che dovevano fare le scoperte. e poi anche con le piste dorate. Io ho queste versioni. Diciamo, futuri sviluppi. Volevo fare un qualcosa tipo Kickstarter. Ho prima questa piccola serie beta che mi sono fatto fare, che diciamo è quella proprio per testare se ci sono magagne particolari, se scopro che dopo un mese esplodono tutti. Ma se, diciamo, i primi che do in giro vanno abbastanza bene, penso, penserò a qualcosa tipo Kickstarter. Sto, diciamo, raccogliendo una mailing list per la gente che in qualche maniera vuole essere, vuole rimanere informata su questo progetto, quindi se mi dite vi aggiungo e quando ho qualche novità, cioè lo dico da un anno e devo ancora mandare una mail, ma quando le manderò, le manderò a tutti quelli che sono interessati. Vabbè, forse sono stato velocissimo. Se ci sono qualche domande, qualche domanda particolare. Scusi, che sta parlando? Aggiungere un controllo dell'ora dai server, diciamo, radio controllati, è possibile oppure occupa troppo spazio? E ho problemi di batteria. C'è stata una grande battaglia di me contro me stesso su mettere batteria ricaricabile o no. Alla fine ha vinto la batteria non ricaricabile, però sacrificando tutto quello che non è essenziale. Quindi nel momento in cui potessi mettere una batteria ricaricabile, quindi dovrei fare un modo per ricaricare la batteria, quindi dovrebbe tenere l'acqua al modo per ricaricare la batteria, oppure dovrei fare carica e induzione, ma quindi non fondi in allumi, in acciaio inox. Comunque diciamo che il limite della batteria non ricaricabile è proprio quello che non posso permettermi di consumare energia, ad esempio, per sincronizzarmi via radio. E quello è un limite, diciamo. Però, alla fine, uno cambia l'ora ogni sei mesi. Sì, diciamo che... Adesso non più. Ah, ecco, forse adesso neanche più. Adesso forse vogliono togliere l'ora legale o solare. Quale delle due? Ecco. Ecco. Quindi non serve neanche che do il manuale per cambiare l'ora. Perché cambiare l'ora con due tasti è un po' complicato. Non tanto complicato, poco. Se c'è qualche altra domanda... E qua davanti... Visto che i cinesi sbagliano spesso, poi vorranno dei soldi. Cosa fai? Negozi? Dici, no, mi pago. Gli paghi lo stesso, gli paghi metà? Come funziona? Allora, il problema è che per piccoli lotti, allora, di solito si paga il 30... Su grandi ordini si paga il 30% subito e il 70% quando loro ti mandano delle foto e tu dici ok. Oppure tu paghi qualcuno là in Sina per andare a controllare il tuo prodotto, lui dice ok, allora quando ti spediscono paghi il restante 70%. Ma quando fai ordini piccoli, tipo questi, che al più sono 1000 euro, te li cucchi tutti subito. Cioè, nessuno ti fa questo servizio, ti dicono dammi i soldi subito. Oppure, appunto, come ho fatto io, passi tramite un middleman, cioè tu dai soldi a lui e lui, ad esempio, quella volta che mi ha scartato le casse, si è arrangiato lui con la ditta fornitrice a farsele rifare senza pagare. Perché in qualche maniera è una persona che fa quello di mestiere, ha i suoi clienti, quindi il suo fornitore di pezzi torniti, magari non vuole perderlo come cliente, quindi gli rifai i pezzi anche gratis. Però te come persona, cioè se fai ordini da veramente tanti soldi ci si accorda, ma per ordini piccoli si rischia, si rischia. Inevitabile. La tassazione su import? Eh, allora, tassazione su import, beh, in Italia siamo abbastanza sfigati. Cioè, ora, dipende dal corriere, di solito c'è il tipo TNT, che è quello con cui spediscono di più, ha i 26 euro fissi, 26 euro di tasse di oneri doganali, quindi il tipo di TNT che prende il tuo pacco, ti manda la mail, bla bla bla, 26 euro, indipendente da quanto spendi. Quindi se fai ordini piccoli è tanto, se fai ordini grandi no. Poi hai, vabbè, l'IVA, e poi su ordini sopra i 150 euro hai il dazio doganale. Quindi, ad esempio, io che ho fatto ordini da 1000 euro, sopra i 150 euro, il dazio doganale è in base al tipo di merce, e infatti mi mandano una mail, mi chiedono che tipo di merce è, e c'è un tabellone enorme, tra cui c'è, tipo la cosa, vetri da orologeria, e gli dai quel codice lì, il vetro da orologeria è tassato al 5%, allora ti mettono il dazio 5%. Però, ad esempio, ci sono tanti, adesso anche lì, poi i cinesi, non si fanno problemi a scriverti un prezzo diverso da quello che è quello effettivo, anche lì bisogna stare un po' attenti, perché poi magari ti spendiscono una cosa da 1000 euro, scrivono che costa 10 euro, quindi la dogana dice, un scatolone così non può costare 10 euro, te lo tengono fermo là un mese, lo aprono, anche lì bisogna stare attenti. Prego. Sì, è vero, allora alcune volte mi è capitato che mi abbiano richiesto una conferma di pagamento, quindi sì che poi tra l'altro la conferma di pagamento è uno screen di Paypal, perché io quello ho di conferma di pagamento. Gli è andato bene. Eh no, ma io non ho estremi di banche in quel caso lì, perché faccio un pagamento tramite Paypal. Comunque effettivamente anche io mi sono fatto queste domande, gli ho detto, ma come conferma gli basta uno screen? Gli è bastato. Però sì, non saprei, perché poi quando si fa bank transfer, altri tipi di pagamento, vogliono sì gli estremi della propria banca e tutto. È vero. Ma infatti una volta ho avuto un problema che ho pagato 500 euro, sul pacco avevano scritto che è costato 300, e poi io quando ho dovuto allegare la conferma di pagamento ho dovuto allegare quella da 500, perché poi l'avevo. Vabbè. Ok, grazie. Grazie. Grazie.